L'ex-ministro Antonio Di Pietro annuncia il suo ritiro definitivo dalla scena politica nazionale e regionale. In una lunga intervista rilasciata a Telepolise, Di Pietro parla della sua esperienza istituzionale, terminata nel 2013, dei tanti traditori che lo hanno abbandonato, analizza con preoccupazione la situazione politica molisana e ricorda l'autostrada a Terboli San Vittore, da lui finanziata, che non c'è più. I fondi infatti sono stati dirottati sulla metropolitana leggera, matrice boiano, voluta dall'aggiunta frattura e confermata dall'attuale governo regionale, un'opera che oggettivamente non serve a niente e a nessuno. Ho detto e ribadisco, c'è un tempo per ogni cosa. La politica, se è un servizio, deve avere un limite e deve avere un ricambio generazionale. Io ciò che ho fatto ne sono orgoglioso, ma credo che sia il momento di non farlo più e non è che da oggi, è dal 2013 che non faccio più politica attiva e continuerò a non farlo. Questo non vuol dire che da cittadino non faccia sentire la mia voce, quello sempre, soprattutto in difesa del mio Molise. Sono passati quindi circa sei anni da che lei è fuori dalla politica. Ecco, però, un po' le manca la politica, sinceramente. A me manca la politica che serve ai cittadini. Io sono stufo di sentire tutti i giorni sul telegiornale, di tutti i telegiornali, non per colpe dei telegiornali, ma per colpe di quelli che parlano al telegiornale, cioè i politici. Domani faremo, domani diremo, domani avremo. Io credo che il vero politico sia colui che il giorno dopo dica ai cittadini ieri ho fatto. Lei è stato più volte tradito da personaggi che ai quali ha dato sostanzialmente tutto. Un po' tutti quanti, i leader di partito che hanno fatto un partito sul proprio nome, sulla propria credibilità, sono stati utilizzati, sfruttati e presi a calce nel sedere il giorno dopo. E allora sotto questo aspetto, sapete che alla fine bisogna rivalutare razzi. Perché razzi poi alla fine? Tutti quanti dicono, eh Di Pietro ha scelto razzi, ha scelto razzi, ha scelto razzi. Razzi, rispetto a tutti gli altri razzi, è uno che si è fatto i razzi suoi, l'ha detto. Tutti gli altri si fanno i razzi loro, senza dirlo, ma tutti i peggi di razzi sono. Da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lei addirittura aveva finanziato l'autostrada del Molise che è scomparsa. Il problema è che sono scomparsi pure i soldi. Perché io lì 200 milioni ce l'avevo esse. Allora, va bene l'autostrada del Molise, ma il problema è che quei soldi sono stati ripresi e riutilizzati, peraltro soprattutto se li hanno ripresi buona parte per lo Stato. Un giudizio sull'attuale politica regionale del Molise? Eh, un giudizio si dà su qualcosa che c'è. Qui che cosa c'è? C'è ancora un voto di rabbia che si deve trasformare in un'azione di governo. Ad oggi non lo so qual è l'azione di governo. O meglio, so che non c'è un'azione di governo. Quindi aspetto di vedere per capire che cosa può cambiare nel nostro Paese. Al momento le buche sono sempre quelle. C'è un tempo per tutto, ma in caso di elezioni regionali anticipate nel Molise, Antonio Di Pietro non potrebbe essere il nuovo governatore di questa regione? Il massimo che posso fare è cambiare la residenza, tornarlo qui e votare. Quello sì, oltre a quello no.